Arrivato in nazionale grazie a Prandelli, parteciperà ad un mondiale grazie a Prandelli. Ignazio Abate è una delle frecce all'arco del CT azzurro per la fascia destra dell'Italia. L'esterno del Milan deve molto al tecnico Diorzi Nuovi, che lo ha portato nella selezione maggiore facendolo debuttare l'11 novembre 2011, un giorno prima del suo 25esimo compleanno. 90 minuti in campo nell'amichevole vinta Breslavia contro la Polonia. Da allora Abate fa costantemente parte del gruppo azzurro. Presente agli europei del 2012, dove è tra i protagonisti del quarto di finale vinto contro l'Inghilterra ed è titolare nella finale persa contro la Spagna. Presente alla Confederations Cup dell'anno successivo, antipasto della Coppa del Mondo 2014. Rapido, instancabile e combattivo, Abate fa della corsa e della grinta, due delle sue toti migliori. Il sogno è vincere, sono sicuro che il gruppo ci darà soddisfazioni, ha detto a proposito del Mondiale. L'ottimismo ad Abate non manca e non potrà mancare all'Italia di Prandelli. L'ottimismo ad Abate non manca e non potrà mancare all'Italia di Prandelli.